E' passato ormai un anno da quando a Modica scoppiò la polemica sulla Lancia Delta acquistata dall'amministrazione comunale. Un'auto con già diversi chilometri alle spalle pagata 10.000 euro. Una situazione denunciata ai tempi dalla consigliera Ivana Castello, che aveva puntato il dito contro il sindaco che avrebbe utilizzato per l'acquisto in un autosalone di Frigintini fondi destinati ai servizi sociali. Il motore della chiacchierata Lancia Delta però non ce l'ha fatta. Nonostante l'intervento di manutenzione avvenuto proprio al motore, oltre che ad una delle ruote anteriori, neanche un mese fa ha issato bandiera bianca. Prontamente l'amministrazione ha provveduto a stanziare ulteriori 2.000 euro per sostituirlo con un altro motore che conta già 53.000 chilometri. A intervenire oggi sulla questione ha finalmente venerdì e Antonio Ruta. Tutto questo, a mio modesto avviso, denuncia una certa leggerezza della nostra amministrazione comunale e soprattutto del sindaco, dell'assessore al ramo, che dovrebbero invece gestire le risorse pubbliche con una certa parsimonia, perché non sono soldi loro, quelli che spendono sono soldi nostri. Invece si nota una grande leggerezza, in primo luogo perché si è consentito l'acquisto di una macchina che era già vecchia, perché aveva già 83.000 chilometri sulle spalle e che si presupponeva avrebbe dovuto fare altrettanti nel futuro, perché comunque una macchina in uso ad un comune si presuppone che ha una maggiore usura rispetto alla macchina che viene utilizzata da un privato. Una macchina che si è rivelata inadeguata, perché appunto a distanza di nemmeno un anno ha già presentato delle anomalie, tant'è vero che si è proceduta a questo intervento. Una macchina che ha creato poi l'ulteriore problema, perché nonostante l'intervento poi ha richiesto la sostituzione del motore. Ora, il problema qual è? Il problema è che il comune non è un consumatore, quindi non si può valere nemmeno la garanzia dei due anni dall'acquisto per eventuali vizi occulti. E sembra strano anche che nessuno tra l'amministrazione e i funzionari abbiano quantomeno posto l'interrogativo del perché dopo un intervento fatto presso la ditta di Raimondo di Frigintini, ma a distanza di nemmeno un mese il motore è fuso, perché ad esempio si potrebbe verificare che si è rotta la cinghia di trasmissione, la cinghia di distribuzione, quindi questo potrebbe avere creato un problema che magari poteva essere ovviato se si fosse fatta la dovuta manutenzione. Di tutto questo nessuno si è posto il problema.